Comincia di Vercelli Balduzia, Balduzia Svolta leggermente a sinistra Balduzia, Balduzia Balduzia Svolta leggermente a sinistra Come? Why? Here Mountain area, come is it? Oh, it makes it a lot to go to church Here уется Minas 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 Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Truce di indirezione sud ovest Svolta a sinistra Tra 600 metri, svolta leggermente a destra. Tra 600 metri, svolta leggermente a destra. Svolta a sinistra. Tra 500 metri, svolta leggermente a destra. Tra 500 metri, svolta leggermente a destra.